Nel Natale è ricchissimo di eventi, abbiamo presentato oggi i tanti eventi che caratterizzano il nostro territorio e abbiamo scoperto ancora una volta in mente che la maggior parte dei comuni sono in totale fermore del territorio dell'Atalizio quindi tanti gli eventi, tanti presepi del nostro territorio, tanti accessori di luci, tanti concerti veramente tanto attivismo in questo così bel periodo che ha chiuso un anno straordinario ancora una volta un'importante crescita a livello turistico poi in tutte le stazionalità siamo usciti a avere sempre più e quindi a crescere raffiniamo un autunno pazzesco dove decine e decine di eventi hanno raccontato i prodotti della terra alcuneese tanti di questi prodotti li troveremo proprio sulla tavola di Atalizio è vero che oggi abbiamo voluto facendo vedere una carrellata di fotografie e di immagini di quelli che sono i grandi prodotti perché la maggior parte di questi prodotti creeranno l'Atalizio della provincia di Cuneo affinati agli eventi del nostro territorio e tantissimi presepi che spazzino da una parte all'altra della provincia credo che usciremmo ancora una volta in un periodo unico incredibile fatto dalla volontà degli amministratori ma soprattutto di quel mondo del volontariato straordinario che ha in modo difficile